Musica Proseguiamo il nostro appuntamento, questo che abbiamo chiamato il diario verso la tredicesima edizione della Coppa d'Autunno. Siamo con Massimo Castaldi, un altro dei soci di questo bellissimo club che organizza il tutto, ma che è appassionato di autostoriche. Come si vive questa attesa, i lavori che state facendo e soprattutto l'occasione di arrivare verso il settantesimo di questa Coppa, dando un'ulteriore forza a questa gara attraverso il turismo. Questa gara può diventare un ulteriore attatore turistico per la zona di Melfi e del Vultur, anche attraverso il richiamo dell'autostorico. Sicuramente è una situazione e un impegno notevole, devo dire, per organizzare questa manifestazione e che abbraccia un po' tutto il Vulture Melfese nel percorso che abbiamo studiato e che abbiamo, mi ripeto, percorso davvero passo passo nei vari paesi, nelle varie frazioni del Vulture Melfese per far ammirare al turista, anche alle persone di Melfi e dei dintorni, delle bellezze del nostro paesaggio e delle nostre zone. percorso ovviamente con delle auto storiche di grande pregio e bisogna anche dire che questo è stato voluto e sicuramente anche organizzato da tutti i soci degli amici perché fondamentalmente siamo degli amici appassionati di auto e ci mettiamo veramente il cuore e speriamo che la cosa vada avanti sempre in questo modo perché diciamo anche questa edizione ci abbiamo messo il cuore per organizzarla e per far sì che venga una bella manifestazione. È un po' un vantaggio quello intanto di spendere dei soldini per essere appassionati delle macchine che hanno buttato la carta edità come usano di dire e quindi è un vantaggio, ma è un vantaggio anche bello per chi utilizza queste occasioni, queste gare, queste manifestazioni, i raduni di autostorico per poter vedere quello che c'è intorno. Quindi offrire anche il circondario, l'ambiente, la storia, i castelli, le cascate, i vigneti, i castagneti della nostra zona sono un'ulteriore forma per dire alla gente venite a Melfi anche per questa occasione, poi vi potrete fermare o venire nuovamente in occasione di altre manifestazioni che vengono ad ottobre, quindi parlo di Sagra della Varola, parlo di Falconelli e di altri venditi. Sicuramente, sicuramente abbiamo delle zone bellissime e quindi ci auguriamo che questa manifestazione possa aiutare tutto il circondario, il Vulture Melfese ad accogliere più turisti perché abbiamo veramente delle zone, dei luoghi stupendi, molto belli. Ultima cosa, come abbiamo detto anche con altri amici del club, ci portiamo un po' avanti, c'è l'attenzione del vostro club di continuare a crescere con le prossime edizioni, ma soprattutto di utilizzare magari quella successiva, 2018, visto che a Melfi si festeggeranno i mille anni della cinta murale, della parte storica, magari per far tornare a essere una gara nazionale questa Coppa d'autunno. Poi perché no nel 2019, con i 70 anni, magari fare il botto, quindi il museo, o altre iniziative, fare qualcosa di importante, state anche lavorando con un occhio attento su questi prossimi anni. Sì, sì, sicuramente, è un obiettivo che noi vorremmo raggiungere e speriamo bene che riusciremo a portare questa manifestazione a livelli nazionali, come lo era già quando è partita, molti anni fa. In bocca al lupo per questo lavoro e anche per le prossime edizioni. Grazie mille, arrivederci. Grazie a tutti.